Salve amici e benvenuti anche oggi per un nuovo video. Oggi parliamo di Battlefield, sono arrivate delle notizie ufficiali e sono molto buone. Dopo l'ultimo Battlefield che è andato veramente molto male, io addirittura appaventavo una possibile anche chiusura di DICE, questo lo dico perché Electronic Arts è molto, diciamo, dura a volte quando le cose non vanno bene, in realtà DICE ha un'ultima chance, ha il suo The Last Dance, a mio avviso, perché se fallisce pure questa, la salutiamo. Ma in realtà le premesse per un buon Battlefield, un buon prossimo Battlefield, ci sono tutte. Finalmente sembrerebbe che abbiano capito. Infatti in questa esclusiva intervista IGN di Vince Zampella, che fondamentalmente è stato messo a capo di tutto il progetto di Battlefield, arrivano ottime notizie. Infatti l'intenzione di questo nuovo Battlefield, che ancora non ha un nome, però diciamo un Battlefield Next, il prossimo Battlefield, sarà quella di tornare alle basi. Battlefield goes back to basics. Questo vuol dire che l'intenzione è proprio quella di tornare a Battlefield 3, Battlefield 4, guerra moderna. Esattamente quello che la stragrande maggioranza dei fan di Battlefield aveva sempre chiesto, perché questa ambientazione manca da, appunto, Battlefield 3, Battlefield 4, quindi stiamo parlando di dieci anni quasi. Ma non solo questo, si tornerà alle basi anche a livello di classi. Vengono buttate nel gabinetto gli specialisti, che non sono piaciuti a nessuno, gli specialisti servivano semplicemente per poter vendere altri specialisti. Era una cosa facile per aggiungere microtransazione. A un gioco che comunque era assolutamente a pagamento. Quindi si torna alle classiche classi. Proprio quello che volevano tutti i giocatori di Battlefield. Ma non solo questo. Si manda a casa il fatto di voler fare per forza il più grande Battlefield di sempre. Le partite da 128 player, che non funzionavano per niente, perché c'era troppo casino, troppa confusione, troppa dispersione, e alla fine il gameplay non era così interessante. Quindi niente più 128 player, si ritorna al massimo a 64 giocatori. Quindi mappe comunque grandi, ma decisamente più piccole, più gestibili. Scontri più chiari. E anche qui sono molto molto d'accordo. Anzi, mio parere personale, le mappe che preferivo di più in Battlefield 3 e Battlefield 4 non neanche erano quelle da 64, ma quelle da 32. Perché comunque c'era un bel po' di player, ma la skill personale, le azioni singole di una squadra, avevano molto più peso riguardo poi all'esito della partita. Era molto più interessante e appunto c'era meno confusione. Insomma, sembra che effettivamente tutti i feedback che sono arrivati siano stati raccolti e vogliono fare quello che era stato chiesto di fare. In tutto questo c'è stata un'altra notizia oggi, ovvero che praticamente quattro studi di Electronic Arts aiuteranno a fare questo Battlefield. Quindi ci sarà di tutto. Ci sarà ovviamente il multiplayer, ci sarà una campagna single player, da quanto ho letto ci sarà anche una modalità Battle Royale, perché vabbè, dobbiamo mettercela per forza, e poi ci sarà anche un'altra modalità non ben precisata, che comunque non dovrebbe essere un Extraction Shooter, ma qualcosa di diverso. A squadre, forse a punti, forse con obiettivi da ripulire, non lo so, non è ben chiaro. Comunque, le basi rimangono quelle ovviamente del multiplayer e eventualmente della campagna single player. Tutto questo dovrebbe uscire, qualcuno dice 2025, sarei un po' dubbioso io, però vediamo. Magari esce a fine 2025, magari esce comunque 2026. Dovrebbe arrivare comunque relativamente presto, anche perché comunque l'ultimo Battlefield, insomma, è uscito un po' di anni fa, quindi tutto questo ambaradam ovviamente era già in sviluppo nell'ombra. Quindi questo è quanto, questo è il futuro che ci attende sul prossimo Battlefield. Sono tutte notizie positive. Ovviamente tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, quindi bisognerà poi vedere effettivamente quale sarà la realizzazione del gioco, anche tecnica, perché vi devo dire che il 2042, a parte tutti i difetti di struttura e anche di ambientazione, aveva anche un po' di difetti anche di gameplay, di audio, di feeling e di tante altre cose. Cioè non era sicuramente il miglior Battlefield, anzi probabilmente era il peggiore che abbiano mai fatto. Quindi c'è una questione anche di riprendere i vecchi Battlefield, anche a livello di feeling e di gameplay. Secondo me Bad Company 2 e Battlefield 3, Battlefield 4, assolutamente erano i migliori. Ma anche Battlefield 1 si giocava molto bene, poi lì poteva piacere o non piacere l'ambientazione, le armi della Prima Guerra Mondiale, era tutta una cosa un po' particolare. Però era un gioco figo anche Battlefield 2. Insomma, io a questo punto sono cautamente positivo. Spero che riescano a fare quello che vogliono fare, che poi è quello che volevano la maggior parte dei giocatori. Se riescono a riprodurre, diciamo, quell'esperienza di Battlefield 3 e Battlefield 4, con però strumenti moderni, secondo me può essere certamente un'ottima vittoria per DICE e anche Electronic Arts. Quindi insomma, per adesso, questo. Poi vedremo man mano che escono nuove notizie, oppure ci faranno vedere cose ufficiali, per adesso abbiamo solo questa art con scritto Battlefield, ed eventualmente si valuterà. Vi ricordo sempre, comunque per chi non lo sapesse, che io comunque sono un grande appassionato di Battlefield, li ho giocati tutti da Bad Company 2, e in particolare su Bad Company 2 e su Battlefield 3 penso di aver avuto più di mille ore ciascuno di questi giochi. dieci anni or sono, anche di più ormai fa. Quindi insomma, i Battlefield comunque li guardo sempre con un occhio di riguardo. Ci avevo perso le speranze, ma insomma, se si sono pentiti e stanno tornando alle basi, sono più che contento e vediamo un po' cosa succede. A questo punto, ragazzi, fatemi sapere la vostra, ditemi quello che volete sotto nei commenti e ne discutiamo. Noi ci becchiamo prossimamente per altri video qua, sempre sul gaming. Grazie per l'attenzione e per il supporto sempre. Sapetevi sempre bene. Ciao ciao.